Tu non mi dici mai niente Joel, io per te sono un libro aperto, ti dico qualunque cosa, qualunque cosa è anche la più imbarazzante e io te la dico, tu non ti fidi di me. Parlare in continuazione non significa comunicare. Non è quello che faccio, io ti voglio conoscere, io non parlo in continuazione, che cavolo, le persone devono poter condividere le cose, è tutta quell'intimità, mi fa impestialire questa cosa che mi hai detto. Scusa, credi che l'argomento sia così interessante? Voglio leggere quel diario su cui scarabocchi in continuazione, che scrivi se non hai nessun pensiero, nessuna passione, amore? 19 novembre 2003, a cena da Kang un'altra volta. Siamo come quelle povere coppie per cui si prova compassione nei ristoranti. Siamo morti che mangiano, io non riesco a sopportare l'idea che possano pensare questo di noi.